Dall'inizio della legislatura al 31 dicembre 2011 sono stati presentati in consiglio regionale 602 ordini del giorno, la maggior parte dei quali è passata al vaglio dell'aula e delle commissioni. Pubblicato in questi giorni il monitoraggio trimestrale degli ordini del giorno e delle mozioni per verificare lo stato di attuazione degli atti di indirizzo. Dalla pubblicazione risulta che 164 ordini del giorno sono stati approvati, 181 respinti, 27 ritirati, 13 dichiarati irricevibili e 217 non sono ancora stati esaminati.